Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. 7 milioni di euro di fondi PORFESR saranno utilizzati per la mobilità sostenibile a Pescara. Un progetto ambizioso che trasformerà la città grazie anche all'utilizzo di mezzi elettrici. Il servizio è di Paolo Renzetti. Per ottenere questi fondi PORFESR come di Pescara ha ottenuto 6 milioni e 9 ed è stato considerato il capoluogo di regione in cima alla classifica per l'ottenimento di questi fondi e quindi di questo siamo molto soddisfatti. Si richiedeva di elaborare una strategia urbana sostenibile e sostanzialmente si tratta di uno sviluppo di strumenti che noi già avevamo in campo come il PUMS, il piano urbano per la mobilità sostenibile, l'atto di indirizzo strategico e una serie di attività in corso che abbiamo sviluppato e raccolto in questa strategia. In questa strategia abbiamo sostanzialmente finanziamenti europei che passano attraverso la regione che sono stati assegnati anche attraverso questa forma competitiva tra vari comuni per realizzare, per mettere in pratica questa strategia urbana. È una strategia che comporta la realizzazione di un trasporto collettivo che passa all'interno della città su sede riservata e protetta, quindi su questo abbiamo circa 2 milioni di euro da investire. Comporta la creazione di una serie di cosetti Info Mobility Points nella città, comporta l'acquisto che sarebbero punti intelligenti di ricarica, di scambio di informazioni e così via, comporta l'acquisto di bus elettrici per completare la rete di collegamenti, soprattutto nelle parti più periferiche, l'acquisto di biciclette che siano idonee a poter essere utilizzate anche da parte di persone portatrici di disabilità e la connessione tra i luoghi culturali della città con la mobilità sostenibile. Da domani la ASL di Teramo mette a disposizione dei suoi utenti 56 mila dosi di vaccino anti-influenzale che saranno somministrate gratuitamente. L'azienda sanitaria terramana ricorda che l'influenza colpisce in maniera grave tra il 10 e il 20% della popolazione con costi sociali altissimi. Il servizio di Tania Bonici Castelli. La campagna vaccinale prende l'avvio l'8 novembre come indicato dalla regione Abruzzo. Per la stagione 2017-2018 l'ASL di Teramo ha acquistato circa 56 mila dosi di vaccino e qualora si rendesse necessario è prevista la possibilità di incrementarne il numero. L'influenza rappresenta un serio problema di sanità pubblica, infatti non è sempre un banale malanno di stagione, come spesso si pensa. Ogni anno, secondo il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, l'influenza causa in media 40 mila decessi prematuri in Europa. Sono le persone più fragili, quelle a maggior rischio di complicanze, tanto che il 90% dei decessi si verifica in persone di età superiore ai 65 anni, soprattutto se affetti da altre patologie. Inoltre l'influenza ha costi sociali elevatissimi. Ogni anno, infatti, colpisce in forma più o meno severa tra il 10 e il 20% della popolazione generale. L'ASL di Teramo lancia un appello a tutti i suoi assistiti. La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l'influenza e ridurne le complicanze. E poiché i virus dell'influenza cambiano spesso, la vaccinazione va ripetuta ogni anno. Le vaccinazioni saranno offerte gratuitamente e verranno effettuate nelle sedi vaccinali presenti sul territorio aziendale della provincia di Teramo, anche con aperture dedicate e presso gli ambulatori dei medici di medicina generale per i soggetti di età pari o superiore ai 65 anni. Gli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, coordinati dal Cornello Vincenzo Grisorio, hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone che devono rispondere del reato di bancarotta fraudolenta ai danni di una società proprietaria di una catena di supermercati che gestisce dei punti vendita in Abruzzo. Delle tre persone indagate, una è finita in carcere, due ai domiciliari. La bancarotta ammonta ad alcuni milioni di euro. E poi sempre per la cronaca è di almeno 10.000 euro il bottino di un furto compiuto la scorsa notte ai danni di una tabaccheria di Crecchio in provincia di Chieti. I ladri hanno tagliato la grossa catena con il lucchetto che chiudeva l'ingresso al negozio e hanno portato via sigarette, tagliandi gratta e vinci, caramelle e alcuni oggetti d'oro dei proprietari. Come documentato da alcune telecamere di videosorveglianza installate in zona, il colpo sarebbe stato messo a segno da quattro persone entrate poco dopo le ore 3 nel locale dove sono rimaste per circa un'ora per poi allontanarsi a bordo di un'auto di grossa cilindrata. A Crecchio furti sono stati commessi anche in alcune abitazioni, indagano i carabinieri della compagnia di Ortona. Ha aggredito col pendolo con pugni e calci un connazionale che stava entrando in negozio. Fermato dalla polizia e dal commerciante si è dato alla fuga ma è stato bloccato. Con l'accusa di tentata rapina un 27enne cittadino nigeriano richiedente a siro politico è stato arrestato dagli agenti della squadra volante dell'Aquila. Il personale della squadra mobile volante dell'Aquila è intervenuto in via Vetoio a seguito della segnalazione giunta presso il locale della sala operativa per una violenta lite in atto tra due concittadini extracomunitari all'esterno di un centro commerciale. Giunta prontamente sul posto la pattuglia ha notato un uomo di colore a terra con evidenti segni di colluttazione sul viso e un altro che alla vista degli agenti si è dato alla fuga ma è stato preso a poca distanza per identificarlo e ricostruire la vicenda. Si è quindi scoperto che un uomo 27enne nigeriano richiedente asilo politico aveva aggredito colpendo con pugni sul volto e calci all'altezza del costato un suo connazionale che stava per entrare in un'attività commerciale con lo scopo di sottrargli dalla tasca il telefono cellulare e di rubare il denaro del borsellino. Solo il pronto intervento della polizia e del titolare dell'attività ha permesso di far desistere dal proprio intento il malvivente che vistosi alle strette ha cercato inutilmente di fuggire. La vittima ha raccontato l'intera vicenda agli operatori che hanno quindi arrestato il 27enne per il reato di tentata rapina. All'esito dell'udienza di convalida con rito direttissimo l'arrestato veniva sottoposto da parte del GIP Mario Cervellino e su richiesta del sostituto procuratore David Mancini alla misura dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia competenti. Il giudice ha sottoposto altresì l'invio degli atti presso la commissione competente a valutare l'istanza di richiedente asilo politico. Due auto sono andate a fuoco la notte scorsa a Sulmona in via Avezzano provocando danni anche allo stabile sotto al quale erano parcheggiate. Intorno alle 4 alcuni residenti hanno sentito un forte sibilo e poi uno scoppio e il crepitio delle fiamme. Subito le telefonate a polizia e vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta la squadra anticrimine del commissariato insieme ai vigili che hanno circoscritto la zona spegnendo le fiamme a prendere fuoco davanti a un palazzo dove abitano 8 famiglie una Panda e una Citroën C4. In base ai primi rilievi della polizia scientifica si tratterebbe di incendi dolosi. Dopo l'ennesimo episodio i residenti tornano a chiedere l'installazione di impianti di videosorveglianza. Quartiere Santa Rita a Lanciano, ostaggio della microcriminalità alla denuncia di una negoziante esasperata dai continui furti. Vediamo. Negozianti e residenti disperati al quartiere Santa Rita di Lanciano qui non c'è sicurezza. A denunciare una situazione è divenuta insopportabile e Marina Carpineta, commerciante che ha aperto il negozio di fruttivendolo da due anni. È tra via Sigismondi e via Cipollone che si concentra il maggiore sconforto. Non ce la facciamo più, racconta, mentre vende la frutta ai residenti per lo più anziani che annuiscono mentre le parla e aggiungono altre testimonianze, come il signor Paolo che abita qui da una vita. Siamo abbandonati, la sera non si può uscire dopo le 8 d'estate e dopo le 5 d'inverno. Minacce continue da gente che pretende soldi per strada o la merce gratis in negozio. Tutti sanno chi sono, ma nessuno fa niente, dicono i residenti esasperati dal disinteresse dell'amministrazione comunale e delle forze dell'ordine che ormai non vengono neanche più quando li chiami, commenta la Carpineta, costretta a rincorrere i ladri per strada dopo l'ennesimo furto. Allora io al sindaco non ancora ci vado perché la gente mi dice inutile che ci vai perché siamo andati tante volte noi e non ci ha mai aiutato. Invece i carabinieri e le forze dell'ordine mi hanno detto che sì, le denunce ci sono di continuo, ma che li possiamo fare? E se i genitori entrano ed escono dal carcere i figli di appena 5 o 6 anni non sono da meno. Si intrufolano nei nostri garage, concludono i residenti, per poi andare a riferire che cosa c'è da rubare. Presentato il calendario storico 2018 dell'Arma dei Carabinieri, il filo conduttore è quello dei valori etici e sociali dell'Arma. Vediamo. Oggi la presentazione del calendario storico dell'Arma si parla dei valori etici e sociali dell'Arma dei Carabinieri. Esatto, è un calendario molto particolare che ha un taglio molto artistico e quest'anno il tema è l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nel mondo. Ad ogni mese dell'anno è stato dedicato un continente o comunque una regione di un continente nell'ambito della quale, all'interno della quale l'Arma dei Carabinieri è presente o è stata presente o lo è stata storicamente come protagonista sia in teatri relativi alle missioni di pace sia comunque in funzione di ente di addestramento alle forze di sicurezza di quel paese. Parliamo di un calendario che rappresenta un po' fotografa proprio l'Arma dei Carabinieri e che viene stampato in oltre 1.300.000 copie in tutto il paese. Esatto, e quest'anno si è avvalso anche di contributi di concorsi molto prestigiosi perché proprio in aderenza a questa particolare caratteristica del calendario nel mondo o meglio dell'Arma dei Carabinieri nel mondo ad ogni regione geografica, come dicevo prima ad ogni area del mondo è stato associato un artista proveniente da quel particolare contesto territoriale per cui abbiamo tavole di artisti di albanesi, rumeni, africani, afghani, iracheni, nordamericani, sudamericani. Quindi è veramente un caratteristico di realtà, di costumi, di tradizioni nel mondo a cui l'Arma si accompagna. The Beautiful Wedding in Abruzzo questo è il progetto presentato in mattinata dall'assessore regionale Donato Di Matteo con la nostra regione che si candida ad ospitare matrimoni di stranieri. Vediamo. Anche l'Abruzzo si candida ad ospitare i grandi matrimoni, ad ospitare matrimoni di stranieri che vogliono sposarsi nel nostro paese. Certamente una regione come l'Abruzzo che ha tutte queste bellezze naturali che ha delle location straordinarie imprenditori del settore illuminati pone la sua candidatura con questa iniziativa facendo le giuste promozioni e valorizzazioni di queste belle location perché potremmo con questa iniziativa sicuramente non solo potremmo riusciremo a prendere una parte di quel mercato che è fatto da circa 7 mila stranieri che nel 2016 si sono sposati in Italia. Sono certo che si invertirà la rotta perché l'Abruzzo fino a questo momento è stata una delle ultime regioni ad attrarre questo tipo di interesse. Io credo che a iniziare da questa iniziativa e con i prossimi mesi con il coinvolgimento di un testimonial di valore straordinario per quanto riguarda il matrimonio e l'amore che è Ridge di Beautiful noi riusciremo a fare una grande inversione a determinare una grande inversione di tendenza. Ed ora apriamo l'ampia pagina dello sport ampia perché è iniziata una settimana particolare nella nostra regione con la presenza della nazionale Under 21 che tra poco si ennerà al Poggio di Città Sant'Angelo e proprio con il Poggio ci colleghiamo in diretta c'è il nostro Jacopo Forcella. Buon pomeriggio Jacopo. Buon pomeriggio a te Andrea buon pomeriggio ai telespettatori del TG6 detto bene tra poco alle 15.30 la nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio si allenerà sul campo alle mie spalle per preparare l'amichevole di dopodomani alle 15.30 contro il Pescara di Zeeman ma ovviamente lo sguardo sarà rivolto all'amichevole di settimana prossima di martedì contro i parietà della Russia e Italia Under 21 che va a caccia dunque del quarto successo consecutivo ovviamente con uno sguardo soprattutto agli europei dell'anno prossimo che l'Italia ospiterà e dunque qualificata di diritto alla massima competizione europea. Poco fa ha parlato Nicolo Barella il centrocampista del Cagliari ovviamente a lui abbiamo chiesto lui che ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili a lui abbiamo chiesto della partita di martedì contro la Russia e anche ovviamente un'opinione su quella che è la partita molto più delicata la doppia sfida dell'Italia contro la Svezia intanto proprio in questo istante sta arrivando la nazionale Under 21 ci sono anche due ex bianco-azzurri come Rolando Mandragona che avete visto inquadrato c'è anche Daniele Verde che adesso gioca con il Verona c'è Cutrone che abbiamo visto li vedete tutti quanti che sfilano ovviamente il tecnico Luigi Di Biagio che preparerà questa doppia sfida doppia amichevole giovedì contro il Pescara e poi martedì prossimo appunto come detto contro la Russia l'arrivo della nazionale Under 21 lo avete visto come detto torniamo alle parole di Nicolo Barella che ha parlato poco fa e ha dato un'opinione sia dei due impegni degli azzurrini e anche come detto di Italia-Svezia doppia sfida che vale per la nazionale maggiore l'ingresso al mondiale di Russia 2018 lo ascoltiamo è già assaporato il clima della nazionale A sì è stata una cosa bellissima è una cosa che sicuramente non mi aspettavo però diciamo che questo vuol dire che sto lavorando bene nulla io punto a questo lavorare bene aiutare la squadra in campo e poi queste sono cose che fanno piacere ma diciamo che io gioco dove mi mettono mi piace giocare mi diverto mi piace aiutare la squadra e questa è la cosa più importante test amichevole contro la Russia però è chiaro che lo sguardo è indirizzato verso gli europei questi saranno tutti i test che vi prepareranno per l'anno prossimo sì sì sicuramente sono tutti test importanti che aiutano se arriva una vittoria aiutano a dare morale noi giochiamo sempre per vincere e questa è la cosa più importante per prepararci bene come detto tu all'europeo venerdì sera invece ci sarà la prima dell'Italia contro la Svezia poi ci sarà il ritorno insomma la partita per quanto riguarda l'Italia maggiore sarà decisamente più delicata sì no è una partita importantissima però penso che con l'atteggiamento giusto e la voglia di vincere arriverà la vittoria e la qualificazione di questo ne sono sicuro Nicolo Barella che ha giocato un paio di stagioni fa a Como insieme a un pescarese come Simone Andrea Ganz l'attaccante bianco-azzurro che in questo momento non è proprio in cima alla lista delle preferenze di Zdenek Zeman per il reparto d'attacco Barella ha parlato così della situazione del suo ex compagno di squadra appunto Simone Andrea Ganz e ha anche parlato del tecnico Boemo che ha sfiorato poteva essere il suo allenatore proprio a Cagliari lo ascoltiamo Simone per me è un grande giocatore un grande attaccante uno che vede alla porta ne ho visto pochi come lui nulla poi queste sono scelte del mister del Pescara di mister Zeman io non entro in merito ti posso solo dire che Simone è un bel giocatore è una bravissima persona a proposito a Cagliari l'hai sfiorato Zeman oppure? sì sì ho fatto un anno di allenamenti con lui non sono mai sceso in campo però si è fatto un anno di allenamenti duri con lui senti secondo te Ganz come la sta vivendo in questo momento l'esclusione? per un giocatore non è mai bello stare in panchina però sono sicuro che Simone quando verrà chiamato in causa si farà trovare pronto e farà gol come sa fare dunque alle 15.30 seduta di allenamento per gli azzurrini di Luigi Di Biaggio su un campo adiacente ovviamente si allenerà anche il Pescara che sarà l'avversario di dopodomani alle 15.30 allo stadio Adriatico poi la nazionale Under 21 rimarrà qui per altri due giorni prima di partire per Frosinone dove martedì pomeriggio affronterà la Russia allo stadio Stirpe per il momento dal poggio degli olivi è tutto Andrea ti restituisco la linea grazie a Jacopo Forcella andiamo avanti con il Tg per la presenza in Abruzzo della nazionale Under 21 è fondamentale il contributo del dirigente degli azzurrini Vincenzo Marinelli il presidente onorario del Pescara ospite ieri sera della trasmissione Replay ha parlato delle contestazioni rivolte al patron Sebastiani e all'allenatore Zeman nel corso della gara col Palermo non è giusto criticarli ha detto ascoltiamolo parlo da quando sono uscito quindi come dall'86 quindi sono passato diversi anni e non ci dimentichiamo che abbiamo avuto noi abbiamo fatto sacrifici per non far fallire la società quindi poi appena si è affacciato qualcuno non pescarese purtroppo siamo arrivati a quel livello quindi io non riesco a capire come si possa contestare il presidente si possa contestare addirittura ultimamente l'allenatore che penso che ha dato tanta soddisfazione al Pescara quindi passare con una certa facilità ad essere ottimista e poi pessimista totale quindi penso che però sono in pochi se andiamo a analizzare penso anche con voi quello che hanno fatto dopo il fallimento cioè quelle che hanno preso la società rilevate al fallimento quelle che hanno fatto penso che ci sono stati due ci sono stati anzi infatti poi sono una realtà due promozioni un playoff praticamente che tutto sommato realizzavamo di vincere a Bologna e quindi chiaramente il Pescara non può convedere tante altre società che hanno più risorse economiche quindi secondo me hanno fatto una politica sui giovani i giovani basta vedere un po' i quelli che sono usciti dal Pescara e grazie a loro che il Pescara adesso si trovi in una condizione non con una marea di debito ma una società sana e quindi pensa che ci vogliono più applausi perché chi fa chi produce o chi fa uno spettacolo pensa che ha bisogno anche del convorto cioè della gente che vedono quello spettacolo e ora la serie G perché la serie C pardon perché siamo alla vigilia del turno infrasettimanale intanto vediamo la schermata delle partite che caratterizzano la tredicesima giornata con vi dirò anche gli orari di inizio in particolare alle 14.30 Ferralpi Salò Fermana Reggiana Pordenone San Benedettese Suttirole Triestina Teramo ci doveva essere anche Modena Bassano ma il Modena è stato escluso ieri anche da comunicato ufficiale quindi questa partita chiaramente non si giocherà alle 18.30 Gubbio Ravenna alle 20.30 Fano Sant'Arcangelo e Padova Mestre alle 20.45 Vicenza Renate una classifica che è stata dunque stravolta dall'esclusione del Modena esclusione che è stata ratificata ieri con comunicato ufficiale è stata anche riscritta la classifica togliendo i tre punti alle squadre che avevano nel frattempo giocato e vinto contro il Modena se ne giova il Teramo che in questo modo aggancia in classifica il Suttiro la quota 13 stacca la zona play-out se non ci saranno sorprese la zona play-out sarà confinata all'ultimo e penultimo posto Teramo che ora è a due punti dalla zona play-off dove c'è il Vicenza dunque in questo momento in testa ci sono Renate Pordenone con 21 punti poi il Padova con 20 18 punti per Albinoleff e Bassano 17 per San Benedettese Triestina Mestre Ferralpisalò 15 per il Vicenza 14 la Fermana 13 su Tirole Teramo 11 punti per il Gubbio 9 per la Reggiana 7 per il Ravenna 6 per Sant'Arcangelo 5 per il Fano il Modena è escluso chiaramente da questo momento in poi fino alla fine del girone d'andata ci saranno due squadre che riposeranno in ogni turno cioè la squadra che avrebbe dovuto riposare da calendario di inizio stagione più la squadra che avrebbe dovuto giocare con il con il Modena accadrà ad esempio al Teramo in occasione della prima gara del mese di dicembre era fissata la trasferta del Braglia per sabato 2 dicembre ma veniamo alla partita di domani al Nereo Rocco di Trieste ore 14.30 stamattina i Biancorossi hanno sostenuto la rifinitura per poi partire alla volta di Trieste resta ancora a casa Pratangelo che sta recuperando da una distorsione alla Caviglia convocati su Maree Baras anche se l'ex Lumezzane andrà in panchina per onor di firma tra gli alabardati non ci sarà l'ex Petrella fermato da un guaio muscolare riportato nella partita vinta a Pordenone Agna Cantagalli Teremo in campo domani per il turno infrasettimanale contro la Triestina a Trieste il termo cercherà l'ottavo risultato utile consecutivo Masta nella conferenza stampa odierna ha sottolineato come sia molto più importante continuare a fare punti quando il momento è negativo non concentrandosi per l'appunto sulle prestazioni in calo da Sant'Arcangelo fino alla partita scorsa contro il Sud Tirol sono strafelice quello che riusciremo a fare ad ogni domenica sono realista io è il massimo che faremo i giocatori sono stati applauditi da tutti i tifosi perché hanno dato l'anima hanno dato l'anima io voglio questo i giocatori lo sanno voglio tanti gol ma chi non vuole tanti gol c'ho Cristiano Ronaldo c'ho quello c'ho realisti guardate sono strafelici cambiamenti invece ci potrebbero essere a centrocampo con l'inserimento di Graziano e l'ipotesi di De Grazia titolare mentre in attacco è ballottaggio tra Foggia Tulli e Barbuti per due maglie con il doppio centravanti che al momento potrebbe essere una delle ipotesi più caldeggiate dall'allenatore ha giocato col Padova il primo tempo e un po' anche del secondo assolutamente non è detto che può essere una coppia che possa giocare insieme o proporre anche Tulli trequartista quando ci sarà un po' più anche di squadra l'ho detto e capiterà Tulli sottopunta i due attaccanti e se è un più offensivo in questo momento siamo ancora anche accorti in certe cose voglio una squadra più compatta piano piano quando trovi fiducia cambi sistema proponi più attaccanti non ci sarà problema dall'altra parte invece Triestina senza l'ex Mirko Petrella che si è infortunato a Pordenone nell'ultima vittoria della squadra di San Nino e quindi non giocherà appunto il grande ex della gara io guarda mi dispiace per lui perché se fatto male spero che non sia nulla di grave comunque è un giocatore che lo metti 5 minuti 10 minuti così è fastidioso è un giocatore che ti crea dei problemi c'ha l'uno contro uno il mancino è importante mi dispiace per lui però in questo momento meglio per noi Asta aspetta ancora quel qualcosa in più che possa dare ad esempio a un giocatore come Tullio come Bacio Terracino per cercare maggiore concretezza in avanti ammettendo comunque che lavorerà in futuro per rendere più offensivo l'attuale 3-5-2 spero che Giacomo Tulli in questo caso dia veramente quella scintilla perché lo aspettiamo più che mai è logico uno dice sì ma aspettiamolo fino a quando è vero è già un dato di fatto ne posso dire però prima di di un giocatore poterlo vorrei aspettare quella qualità lo scorso 29 ottobre 16 tifosi dei Roseto Sharks furono bloccati dalle forze dell'ordine prima che prendesse forma un'aggressione nei confronti dei tifosi di Forlì nel corso della prepartita della gara appunto tra Forlì e Roseto Sharks valida per il campionato nazionale di A2 ebbene nella giornata di ieri i militari della compagnia dei carabinieri di Giulianova hanno notificato a 16 ultras a questi 16 ultras del Roseto Basket altrettanti provvedimenti di Daspo emessi dal questore di Forlì Cesena i soggetti destinatari non potranno accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive con obbligo di firma presso la caserma dei carabinieri di Roseto degli Abruzzi per un periodo variabile da 1 a 5 anni è tutto per questa prima edizione del TG6 le prossime alle ore 19 e alle ore 23 e poi vi ricordo alle ore 21 l'appuntamento settimanale con Proteramo condotto da Jacopo Forcella grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi grazie per l'attenzione